Qual è la connessione tra autismo e schizofrenia? L'autismo e la schizofrenia sono stati spesso collegati in una forma o in un'altra, dai primi giorni della diagnosi a studi genetici all'avanguardia. Fino alla fine degli anni settanta, ai bambini autistici veniva comunemente diagnosticata erroneamente la schizofrenia infantile. Sebbene i successivi metodi di diagnosi abbiano stabilito una chiara differenza tra autismo e schizofrenia, gli studi genetici hanno stabilito un legame tra i due, trovando che potrebbero avere origini simili durante lo sviluppo fetale. L'esatta relazione tra autismo e schizofrenia è ancora in discussione, tuttavia studi genetici hanno gettato nuova luce sul legame tra le due condizioni. La mappatura dell'intero genoma umano, completata nel 2003, ha notevolmente facilitato la scoperta di geni e mutazioni simili tra i pazienti autistici e schizofrenici. Ciò ha spinto alcuni ricercatori a credere che l'autismo e la schizofrenia condividono un'origine comune. Gli studi condotti nel 2008 e nel 2009 hanno scoperto che i pazienti con autismo e schizofrenia condividono determinati gruppi di geni e impronte di DNA simili. Altri studi hanno trovato che i pazienti con entrambe le condizioni avevano una crescita cerebrale inusuale nella loro infanzia. Attraverso lo studio del genoma umano, gli scienziati hanno scoperto che le persone con schizofrenia e quelle con autismo condividono un'irregolarità negli stessi geni. Le persone senza questi disturbi hanno due copie di questi particolari geni. Le persone autistiche hanno una sola copia e le persone con schizofrenia hanno troppe copie. Quindi, mentre le origini dello sviluppo fetale possono essere simili, questo studio ha dimostrato che le due condizioni potrebbero essere geneticamente piuttosto opposte l'una dall'altra. Un altro studio condotto nel 2008 ha indicato che la schizofrenia e l'autismo e il modo in cui il cervello si sviluppa possono essere collegati ai geni forniti dal padre rispetto ai geni forniti dalla madre. La teoria afferma che uno spostamento verso la parte paterna comporterebbe una disposizione verso oggetti, schemi e processi meccanici, con una nota mancanza di sviluppo sociale, questo significherebbe che il bambino potrebbe avere più probabilità di avere autismo o condizioni simili come la sindrome di Asperger. D'altra parte, un'inclinazione genetica verso il lato materno metterebbe l'accento su emozioni e stati d'animo, i cui estremi possono portare alla schizofrenia ma anche a disturbi bipolari, depressione e ansia. In sostanza, se la teoria è corretta, ciò pone l'autismo e la schizofrenia agli estremi opposti dello spettro del disturbo neurologico. Il loro approccio, che amplia la portata della ricerca oltre quella della semplice genetica, ha spinto altri ricercatori a guardare i disturbi del cervello da nuovi angoli. Nuovi studi basati su questa teoria potrebbero benissimo portare a un nuovo modello di diagnosi e trattamento psichiatrico.